Sì, loro hanno trovato una bella continuità in battuta che secondo me in questa partita ci faceva la differenza, ci abbiamo aspettato così, comunque contro Trento è sempre la battuta e ricezione che fanno la differenza e oggi sono stati molto bravi, noi non abbiamo trovato quella continuità e dobbiamo andare avanti. Sì, sicuramente ci siamo cresciuti, era difficile per noi fare quello step, riprendersi da un periodo che era difficile per noi, però secondo me stiamo su una buona strada, oggi abbiamo fatto vedere un po' di più rispetto all'altra volta, però secondo me ce l'abbiamo ancora qualcosina di dimostrare in più e secondo me quando arrivano i momenti ancora importanti lo faremo. Sì, comunque le ultime tre partite saranno importanti per noi, vediamo per i punti, però secondo me sono più importanti per la testa perché comunque arrivare con una buona ultima parte in play-off è secondo me molto importante, così vediamo, troviamo una continuità e andiamo avanti. Eh sì, sempre in Trento è stato molto bello per me, era la mia prima esperienza in estero e comunque sono contento che sono stato qua, che ho visto come funziona questa società e niente, ce l'ho solo belli ricordi.